Passano gli anni, passano le stagioni, Vincenzo Fiorillo è sempre più giocatore del Pescara, sempre più biancazzurro dentro. Sì, questo è il sesto anno, ma ho lo stesso entusiasmo del primo anno, dico la verità, anzi col passare degli anni più giovani si vedono arrivare, più l'entusiasmo deve crescere, perché se no ti fanno capire che stai iniziando un po' a invecchiare, invece tenendo l'entusiasmo alto riesci sempre a lavorare, divertirti e essere un buon esempio. Pochi giorni di ritiro qui a Palena, che ambiente c'è, che clima c'è, ci sono diversi nuovi giocatori, ma c'è un nucleo storico che anche quest'anno è pronto a far bene con la maglia biancazzurra? Sì, sono arrivati tanti ragazzi, tanti giovani, però mi preme sottolineare questo nucleo storico che comunque nei momenti più difficili del Pescara ha saputo sempre unirsi e tirarsi fuori dalle situazioni un po' più complicate, sono tutti tra virgolette vecchietti che meritano e danno una grande mano. Diceva in conferenza stampa Zauri, ambiziosi ma non presuntuosi, quali sono secondo te gli obiettivi del Pescara nella prossima stagione? Ma io che ormai sono qui da un bel po' di tempo, conosco bene quelle che sono le esigenze di questa piazza, che di sicuro non vuol vivere di campionati anomali, nemmeno noi però sappiamo che per costruire un campionato importante ci vuole tanta umiltà e ci vuole tanto lavoro, adesso abbiamo cominciato, c'è da metterci tanta voglia e tanto sacrificio per costruire qualcosa di importante, bisogna passare appunto dal duro allenamento. Far meglio dell'anno scorso non sarà facile, arrivati ad un passo dalla finalissima playoff ci proverete? Beh non sarà facile senz'altro ma lavoriamo con il sogno di arrivare fino a lì, però ripeto stiamo guardando già troppo lontano perché in mezzo ci sono veramente una marea di sacrifici da fare e di obiettivi che arrivano prima di quello in fondo. Da Baby Pilon a Luciano Zauri ritrovi come allenatore un tuo ex compagno di squadra? Beh sì, mi era già successo l'anno scorso tra virgolette con il vice allenatore Pesoli è una cosa che mi fa piacere, mi fa capire che gli anni stanno proseguendo ma non cambia nulla da parte mia, il rispetto dei ruoli che ho avuto per qualsiasi allenatore che ho avuto ne avrò di più nei confronti di un allenatore con il quale ho giocato dando appunto l'esempio giusto e rispettandolo e avendo il giusto approccio a due ruoli diversi.